Il calcio storico alla maturità, proprio così. Questa sera, come vi ho accennato, in questo terzo blocco di quest'ultima puntata, la 35esima della pancia, prima di congedarsi per il periodo estivo, poi torniamo a settembre, parliamo di calcio storico, ne parliamo tanto, nella nostra emittente che è all'esclusiva, ormai da tanti anni gli appassionati lo sanno, e parliamo di calcio storico a scuola, ma con una notizia veramente nuova. Di che si tratta Matteo Calì e Alessandro Dei, il professore Alessandro Dei, che vado a salutare? Che cosa ci racconta? È una grande innovazione, il calcio storico all'esame di maturità. Io me lo ricordo nel lontano 2001, quando ho fatto il mio e pensavo ai vari manzoni o altro, ci vorrei tornare a rifarlo per poter parlare di questa splendida tradizione fiorentina. È una grande novità, anche per l'indirizzo sportivo della scuola, cioè una scuola che si apre a quella che sono i giorni d'oggi, finalmente risponde alle esigenze dei ragazzi, di tanti sportivi, che hanno un'attività agonistica e che però allo stesso tempo riescono a portare avanti un percorso di studi che gli consentirà poi un domani di trovarsi la giusta collocazione lavorativa. È una grande opportunità per i ragazzi, è un lavoro fatto con una professionalità incredibile da Alessandro Dei e da tutti i professori che appunto sono impegnati, e gli esperti che sono impegnati in questo programma che va avanti ormai da vari anni. Poi insomma Alessandro ci mandirà... Però non è mai uscita questa notizia ancora? Perché è il primo esame di maturità in cui si potrà avere la possibilità di sorteggiare letteralmente come indirizzo, come traccia, come input il calcio storico. E questo è un vanto che lo portiamo alla pancia. Allora, professor Dei, ci aiuti a capire come funziona tecnicamente? Che cosa si fa anche al liceo sportivo dove lei insegna? Beh, allora, innanzitutto buonasera, grazie per avermi dato questo spazio, ringrazio voi di RTV38. Ovviamente qui siamo a fare una sintesi brevissima. Il liceo sportivo, liceo scientifico e indirizzo sportivo è stato costituito ormai cinque anni fa, tant'è vero che quest'anno la nostra prima classe, la prima della provincia di Firenze, fra le prime in tutta Italia, dovrà affrontare appunto l'esame di maturità. Prima di arrivare al calcio storico capiamo qual è la materia che appunto consentirà poi di parlare eventualmente di calcio storico. La materia è discipline sportive. Al liceo di indirizzo sportivo ci sono due materie caratterizzanti. Una è discipline sportive, che è il susseguirsi di moduli sportivi e di attività esperienziali che seguono i ragazzi per tutto il quinquennio. Noi ne abbiamo fatte 34 nei cinque anni. L'altra materia è diritto economia dello sport, che viene insegnata nel triennio. Ambe due possono essere materie di esame per la prova di colloquio all'esame di maturità. Quest'anno il Consiglio di classe ha deciso per il primo anno di nominare commissario, e quindi membro interno e quindi materia interna, appunto, discipline sportive. Quindi perché discipline sportive è una delle materie di esame del liceo sportivo? Questo l'abbiamo chiarito. Come si arriva al calcio storico? Di questi 34 moduli, che però è il programma di tutti e cinque gli anni, di tutti i cinque anni che i ragazzi studiano nel corso di formazione del liceo sportivo, vengono scelte alcune. Normalmente si utilizzano programmi di quarta e di quinta. Noi abbiamo voluto mettere anche qualche materia insegnata, qualche disciplina insegnata in terza. Fra queste, appunto, il calcio storico. Quindi i ragazzi, gli insegnanti, tutti quanti abbiamo fatto un programma, il programma di esame, che prevede fra le altre materie, discipline e moduli sportivi, anche quello del calcio storico. E così il calcio storico è entrato nel novero delle materie che dovranno essere affrontate. Ci sarà realmente il calcio storico o domande sul calcio storico all'esame di maturità? Ebbè, questo si arriva ora all'arcano delle tre buste. Perché? Una riforma, ecco. Perché quest'anno che cosa è successo? È successo anche che si è aggiunta la nuova riforma dell'esame di maturità. Una nuova riforma che prevede per il colloquio orale un inizio, o comunque uno svolgersi, che per poter iniziare ha necessità di un input. Un input che è una parola, un'immagine, una frase, una cosa celebre, sul quale il ragazzo, lo studente, il candidato, la candidata, potrà sviluppare quelle che sono le domande che gli verranno poste. Quindi, in queste tre buste ci sarà un termine, una di queste tre buste viene scelta dal candidato, questo chiaramente in tutta Italia è a questa maniera, è il nuovo esame di maturità, e quando noi nelle commissioni preliminari indicheremo e sigilleremo in ciascuna busta un termine, un'immagine o altro, beh, in una di queste tre ci sarà anche un collegamento, quindi la domanda per un collegamento, oppure, se non una domanda, anche la possibilità per lo studente di trovare lui il collegamento con il calcio storico stesso. Sì, perché poi parlare di calcio storico, cioè, si toccano tante discipline, no? Assolutamente, sì, è estremamente, come dire, utilizzabile, perché nel calcio storico e nel nostro corso, nel nostro modulo sportivo, noi troviamo collegamenti con la storia dell'arte, troviamo collegamenti con la letteratura, troviamo collegamenti con la storia, beh, questo mi sembra evidente, ma anche con la città di Firenze, e quindi tantissimi collegamenti, e poi, non subito, perché noi lo sviluppiamo nella classe terza, alla fine della classe terza, anzi, se ci saranno delle immagini, noi vedremo delle immagini di questi ultimi moduli, di queste mattine che abbiamo fatto. Sì, l'abbiamo già passate, ma ripassano. Esattamente. Ho visto delle ragazze? Perché no? No, infatti. Ma infatti anche questa... È un modulo, no, ma allora, innanzitutto è un modulo che viene proposto... Ma si dice lo sport maschio, no? Allora. È così almeno chiarisci. Calma, calma, calma. È uno sport maschio, indubbiamente è uno sport erruento, indubbiamente è uno sport in cui il contatto fisico, beh, insomma, è molto importante. Ma non sono queste soltanto le caratteristiche del calcio storico. E non solamente il calcio storico. Esattamente. Noi siamo a scuola, noi siamo a scuola, ecco, li vediamo un po' di immagini, sono immagini che abbiamo fatto appunto durante i nostri moduli. Questo è il campo di disorgani. Questa è la battuta iniziale. Questa è la battuta iniziale. Questo, per esempio, in questo caso, l'istruttore è Rocchi Dimitri, che è l'allenatore della squadra rossa, che in questo momento è la squadra campione. Perché questi moduli sportivi, sono cinque lezioni, vengono svolti da la prima lezione sul regolamento, sulla storia, sulla radica, sulla trasformazione del gioco, sul costume fiorentino dell'epoca, dal direttore del corteo storico, Filippo Giovanni. Le altre quattro lezioni, le altre quattro lezioni vengono svolte da un rappresentante di ciascuno dei quattro colori. Quindi, i calcianti, che in questo caso sono non soltanto calcianti, ma sono anche esperti, sono esperti qualificati. Rodrigo Nanà, per i bianchi, che è un insegnante di educazione fisica. Poi abbiamo anche Alessandro Pagliazzi, per i verdi. Abbiamo Luigi Ferraro, Luigi Ferraro, per gli azzurri, che si alternano in queste quattro lezioni prettamente pratiche. Tutto questo come si è realizzato? Tutto questo si è realizzato con un lavoro a monto, ovviamente. Perché? Perché abbiamo dovuto fare un protocollo di intesa con il Comune di Firenze, il quale, chiaramente, è l'assessorata alle tradizioni, l'assessore Vannucci, ovviamente, è rimasto molto contento di questa proposta, però dopo è stata regolamentata, e soprattutto c'è stato l'avallo del Comitato del Calcio Storico del Presidente Pierguidi, che hanno ritenuto di firmare questo protocollo di intesa assinché la materia diventasse ufficialmente, come dire, proponibile a una scuola superiore, in questo caso al liceo sportivo. Quindi, questo è stato tutto l'antitesi. Adesso siamo a raccogliere frutti, o perlomeno siamo alla conclusione di quello che è stato il primo ciclo. Ricordiamoci... I ragazzi come reagiscono? Sono contenti di fare tutti questi sport. Io li vedo molto... Stavo per chiedere, guarda... C'è qualcuno che magari all'inizio era restio, invece poi si è innamorato... Questo succede anche per la fisica, questo succede anche per la chimica. Sfattuto. Per la fisica? Per la fisica. Difficile appassionarsi dopo... Non è vero, non è vero, non è vero. Diciamo la verità, insomma, l'attività fisica... L'attività fisica batte la fisica. Sempre stato così. Diciamo che ciascuno di noi ha le proprie, come dire, fa le proprie scelte e ha le proprie tendenze alle proprie aspettative. È chiaro che i ragazzi che hanno scelto di fare un liceo sportivo che, fra l'altro, come diceva giustamente Matteo prima, perché? Perché motivati sportivamente, anche scolasticamente, ma anche sportivamente, perché hanno trovato la possibilità di continuare a tenere i piedi in ambe due... Scusa se ti interrompo, ma questa era una zona che mancava, era un tassello che ha riempito un vuoto che c'era perché prima c'era il ragazzo che se voleva fare sport a livelli professionistici, non studiava e nessuno gli stava dietro. né famiglie né società sportive, tanto per me. Mentre invece in altri stati, negli Stati Uniti, c'è una contemporaneità di un certo tipo. Anche in Francia non importa andare molto lontano. Però ecco, la cultura sportiva poi portata, io in questo caso, Alessandro, oltre che essere un docente, un insegnante, è anche una figura di riferimento del calcio storico fiorettino. perché sono stato prima calciante che mi ha detto. Esatto, la storia passa dal campo, dal sabbione. La conosco perché sono venuta a intervistarla quando era presidente. Sì, ma poi nella mia vita. Esatto, era proprio, cioè, passa dal sabbione e riuscire a portare quindi un concetto di educazione, un concetto culturale dal calcio storico alla scuola. Dallo sport in generale. Dallo sport in generale, sì, sì, assolutamente. Cultura sportiva. Cultura è un esercizio decisivo per i nostri ragazzi perché con lo sport si impara l'aggregazione, si impara a stare con gli altri, si imparano le regole perché il calcio storico che sembra uno sport così ma è uno sport anche di... Ecco, magari qualcuno a casa dice, insomma, le regole però, sappiamo che spesso vengono, ci sono persone che picchiano troppo forte, che vengono anche... In passato è stato anche un po' così. Ora però, da qualche anno... Perdonatemi, faccio l'insegnante. Allora, una cosa è la pratica agonistica finalizzata al torneo del calcio storico. Noi a scuola non insegniamo quella parte lì. Quella parte lì è una scelta successiva che atleti, ragazzi, uomini decidano eventualmente di fare dopo. Noi abbiamo l'interesse di presentare Firenze. Cioè, il modulo del calcio storico è la chiave per aprire sulla cultura e sulla storia di Firenze. Proposta come? Non esclusivamente con libri di testo o altro materia didattico, ma addirittura ripercorrendo situazioni e parti della nostra storia che con il calcio storico ovviamente sono sotto gli occhi di tutti. Poi, uno nella partita del calcio storico è padrone di fare la lettura che preferisce. Ma chi non rimane affascinato comunque dal corteo dai suoni? Questa riforma è tanto mistrattata insomma ha dato però un'opportunità e magari in altri campi la darà per questa... La riforma dei licei la riforma dei licei passa tra i governi. Sì, questa riforma... Allora, il DPR del liceo sportivo è passato attraverso tre governi ha avuto una storia un'iter molto lunga è stato l'ultimo degli indirizzi che con la riforma dei licei è stato messo in pratica è stato avviato è stato attuato ma parlare di calcio storico è importante non soltanto per Firenze quindi noi lo facciamo a Firenze hanno fatto un film gli americani bellissimo hanno fatto un film hanno fatto tante come fanno come fanno film gli americani beh, certo ha fatto un'americanata e beh come potevamo fare poi i fiorentini insomma cosa potevamo fare i fiorentini non sono mai contenti non sono mai contenti non è una questione di essere contenti noi siamo molto legati all'originalità delle cose per cui quando questa originalità viene in qualche maniera interpretata in maniera differente noi ne prendiamo le distanze pur riconoscendo però è stato un veicolo ed è un veicolo di conoscenza pur riconoscendo che comunque si è parlato di calcio storico e comunque si è parlato di Firenze e comunque abbiamo visto tante cose belle anche nel film vorrei chiudere vorrei chiudere così è vero calciante non spero che fiorentino sarebbe è giusto che sia così e quindi ecco parliamo ancora di questi di questi ragazzi allora sì questa è la cosa più importante questa è la cosa più importante perché poi alla fine è importante scolasticamente ma è importante anche per il percorso formativo è quello che rimarrà ragazzi i ragazzi hanno l'opportunità di conoscere il calcio storico sotto una forma didattica e quindi di acquisirne non soltanto l'aspetto che necessariamente viene proposto a quando i ragazzi si avvicinano a qualche associazione di colore e decidono anche perché normalmente sono già atleti formati per altre discipline o comunque sono delle persone che già fanno delle scelte personali questa è un po' differente è molto differente fra l'altro questa idea io posso anche fare un'affermazione importante è stata copiata o perlomeno è stata ripresa perché copiata sembra una cosa negativa invece è assolutamente una cosa positiva alcuni insegnanti che negli anni scorsi hanno insegnato nella nostra scuola cioè liceo scientifico indirizzo sportivo Gobetti Volta a Bagnarripoli insegnanti purtroppo per loro in transito in qualità di supplenti annuali e hanno visto questa diciamo questa attività cambiando scuola quest'anno hanno realizzato due moduli di calcio storico nelle loro scuole quindi la Carlotta Sodio al Marco Polo e Mimori Emma al Marco al Cellini hanno ripercorso questa cosa chiaramente al Marco Polo l'hanno fatto sotto forma di turismo l'hanno fatto sotto forma di alternanza scuola lavoro e quindi hanno chiesto ai rossi e anche gli altri colori di andare a fare queste lezioni quindi questa cosa ha trovato diciamo una dei proseliti ha trovato la possibilità di essere applicata e quindi non c'è vede la soltanto l'aspetto del liceo sportivo che va oltre il liceo sportivo ma contagia è un aspetto culturale esatto contagia e poi l'aspetto culturale ovviamente è aperto a tutti quelli poi è uno stimolo le innovazioni come sempre sono uno stimolo in più per imparare insomma nel senso anche dal punto di vista del giovane del ragazzo che ha la possibilità di sperimentare conoscenze nuove perché fino adesso non era materia perché diventa materia materia di studio e quindi anche è proprio un approfondimento proprio sotto un altro punto di vista che anche a noi fiorentini a volte manca sicuramente questi ragazzi ne sanno molto di più ma anche di me e non è cioè quello che mi interessava far emergere di questa attività Patrizia è che sostanzialmente si va a portare ai ragazzi un qualcosa di nuovo e questa è la cosa importante perché se noi giustamente come diceva Alessandro i ragazzi tendono a scoprire sarà anche nuovo ma il calcio storico come questa modalità viene riconosciuto questo è una risposta alla curiosità dei ragazzi secondo me perché riuscire a portare una materia di questa difficoltà e di questa diciamo così ampia in una scuola è un qualcosa che la rende vita quotidiana e quindi il calcio storico per lui ma per tantissimi fiorentini è uno stile di vita e una vita quotidiana ed è giusto che si trovi la possibilità è l'opportunità di trasmettere certe tradizioni certi valori e certe dinamiche che esso si ruotano intorno a questa grande tradizione fiorentina la speranza è che esca questa busta che venga estratta questo ve lo farò sapere ovviamente naturalmente noi vogliamo andare in fondo aggiunga aggiunga però no io volevo agganciarmi a quanto diceva Matteo e cioè due aspetti il primo è quello che comunque il calcio storico da quasi tutti è visto laggiù laggiù perché in realtà quelli che poi entrano dentro non sono poi così tanti sì è vero che chi entra dentro ha delle famiglie ha degli amici insomma ha tanta gente però normalmente viene visto il calcio storico d'accordo? non viene praticato cioè al calcio in tanti lo vedono ma anche tanti lo giocano a vari livelli calcio storico no quindi è visto come una cosa lontana e affascinante entusiasmante coinvolgente pensate un po' per dei ragazzi per dei ragazzi e in questa maniera si trovano loro a essere protagonisti quindi c'è questo transfer da qualcosa di molto lontano che diventa assolutamente tuo ecco quindi non ci resta che aspettare l'esame vuole aggiungere la seconda cosa la seconda cosa scusate ma ne approfitto fa bene la seconda cosa il calcio storico non è soltanto quello che vediamo nella piazza è anche qualcosa di più sì è quello che continua per tutta la vita come quello che hanno vissuto tanti veterani le vecchie glorie io devo ringraziare fra primi Uberto Bini che ha costituito l'associazione 50 minuti e ha messo insieme i vecchi calcianti di una volta anche i calcianti che quando erano calcianti quando eravamo calcianti insomma i nostri scontri li abbiamo fatti d'accordo ma che una volta superati e diventati appunto vecchie glorie abbiamo trovato il modo di utilizzare questa nostra passione questo nostro saper fare anche saper fare per beneficenza e per altre cause anche questo è calcio storico la partita dell'assedio che si gioca il 17 di febbraio ormai 5-6 edizioni andiamo ancora avanti rappresenta anche questo quindi non è solamente quella cosa lì in questi ultimi anni il calcio storico ha dato parecchie come dire immagini è una realtà lei ha voluto chiudere ringraziando e io voglio chiudere ringraziando lei che è stato con noi a raccontarci questa cosa ad approfondirla tu Matteo che ci porta sempre delle primizie fantastiche e non solamente in cronaca eccetera dove sei fortissimo si sa io ti ringrazio ma voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa stagione della pancia oggi ripeto è l'ultima puntata della stagione ritorniamo a settembre sicuramente con un format migliore cerchiamo sempre ogni anno di migliorarci ma vorrei anche ringraziare tutta la regia Giovanni Torre Stefano Bettoli Francesco Ermini Emanuele Vanni Andrea Stufi Niccolò Barbieri e poi Pierluigi Estero al cameraman che ci fa tutti i collegamenti nel dibattito Andrea Calcinai l'ho salutato prima Mambatteo Pelli che è il nostro uomo social che ci aiuta a farci conoscere insomma a moltiplicare anche quello che facciamo tutta la redazione con Nicola Vasai che ci ha accompagnato mi ha accompagnato in questa stagione della pancia con l'intervista al super ospite naturalmente l'editore che crede ancora a noi noi ci vediamo a settembre con la pancia grazie a tutti grazie a voi